Con l'ottava generazione abbiamo assistito all'avvento del Dynamax, una forma di energia in grado di aumentare considerevolmente le dimensioni di un Pokémon. Per essere più precisi, quello che il Dynamax fa nel momento in cui affetta un Pokémon è distorcere lo spazio-tempo circostante ad esso, sicché il Pokémon appare all'interno di quella distorsione come più grande. Abbiamo già parlato in maniera molto più approfondita di cosa sia il Dynamax e di com'è soggiesca in almeno due video su questo canale. Quindi quest'oggi, per evitare di essere ridondante, alcuni concetti verranno ripresi semplicemente in una forma molto riassunta. Per questo motivo vi suggerisco di guardare almeno uno di questi due video che ho portato sul canale e che trovate nelle schede in alto a destra, qualora vogliate avere le idee un po' più chiare quando parlerò di Dynamax. In realtà il focus di questo video è più incentrato sulle mega evoluzioni, una meccanica introdotta in sesta generazione con Pokémon X e Pokémon Y e che consente a determinate specie di Pokémon di assumere per un tempo limitato, ossia il tempo di un combattimento, un particolare mutamento di forma, paragonabile alle tradizionali evoluzioni a cui corrisponde un aumento della forza. Ora il motivo per il quale mi sono cimentato in questo video è da ricercare nella tendenza che ho notato quando si parla di teorie Pokémon a ridurre l'energia che scaturisce le mega evoluzioni e l'energia Dynamax ad un comune denominatore. Addirittura in alcuni casi l'energia Dynamax e l'energia Devon, che è il nome dell'energia alla base della mega evoluzione, sono state considerate come diverse declinazioni di un'unica energia. Eppure, a mio modo di vedere, le cose non stanno per nulla così. Andando contro tutto e tutti, ma sperando di incontrare i vostri consensi durante il video, tenterò di dimostrarvi tramite la lore ufficiale che le due cose sono diverse fin dalla radice. Per farlo però sarà necessario, dopo aver approfondito il Dynamax nei video che vi ho già citato, spiegarvi anche che cosa sia e come agisca la mega evoluzione. Ora per comprendere il fenomeno che ha dominato la lore della sesta generazione, remake di terza e inclusi, dobbiamo andare a scandagliarne le origini. Un plurale che per una volta non ha un mero significato retorico, perché effettivamente le origini della mega evoluzione sono due. La prima è forse la più conosciuta ed è legata all'arma suprema di Azeta. Circa 3.000 anni fa essa venne caricata dell'energia vitale di centinaia di Pokémon, ponendo bruscamente fine al conflitto combattuto dal sovrano di Kalos al prezzo di numerosissime vite. Secondo il Professor Platan, le mega pietre non sarebbero altro che comunissime rocce irradiate di questo potere. Questa energia vitale della quale abbiamo parlato fino ad adesso sappiamo anche essere sotto il controllo di Xernia Seyveltal, Pokémon responsabili dell'alternanza tra la vita e la morte e dunque del ciclo vitale. Tanto che Elisio, diversamente da Zeta, caricherà la propria arma suprema utilizzando l'energia di questi Pokémon. Ma Elisio non fu il solo ad interessarsi all'energia vitale. Ad Owen, quello che fu il bisnonno di Roccopetri, venne a conoscenza dell'arma suprema di Kalos e pensò di sfruttare la stessa energia vitale per migliorare la vita della società Pokémon. Da questa fondamentale intuizione ebbe origine l'energia Devon, che di fatto non è nient'altro che quell'energia vitale controllata dalla Devon e sviluppata ciclamare. Una struttura costruita su richiesta di ciclamipoli e all'interno della quale Walter, capopalestra della città, occupa un ruolo non meglio definito ma sicuramente importante. Timon, un personaggio che all'interno della trama di Rubino Zaffiro e Remake occupa un ruolo assolutamente minoritario, si scoprirà essere un membro dello staff di Stanza Ciclamare e all'interno dei suoi diari dà l'energia vitale che aveva attirato l'attenzione del bisnonno di Roccopetri un nome molto più scientifico ma dal significato analogo. Timon inizia a chiamare l'energia vitale bioenergia. Come abbiamo detto prima, una volta controllata questa bioenergia, che è la stessa energia vitale dell'arma suprema di Kalos, viene ribattezzata Energia Devon. Per una semplice questione di stile, però, dato che il nome inglese è molto più bello di Energia Devon, ci tengo ad utilizzare quello. Utilizzeremo allora ad ora innanzi, per riferirci all'energia vitale, alla bioenergia e all'energia Devon, il termine Energia Infinita. Ma di fatto questa energia infinita non è nient'altro che la bioenergia controllata e, se vogliamo, prodotta artificialmente. Molto spesso, infatti, quando noi parliamo di energia solare, ci riferiamo più al controllo di una determinata energia proveniente dal Sole, piuttosto che all'energia del Sole. Ora, da questa energia infinita, che è la bioenergia di Timon, nonché l'energia vitale che viene profusa a Kalos dall'arma suprema, trae dunque origine la megaevoluzione, ma abbiamo detto ad inizio video che questo non è l'unico modo per renderla possibile. Già, perché a Doe noi veniamo a conoscenza di una storia irreparabilmente scollegata dall'arma suprema, ma allo stesso tempo intrinsecamente legata alla megaevoluzione. La descrizione di Pokémon Zafiro Alpha, direi quasi, ci narra infatti di una creatura in grado di megaevolversi senza aver bisogno di una pietra, sostituendo la bioenergia contenuta da quest'ultima con l'energia naturale che il Pokémon avrebbe assunto su di sé ingerendo i meteoriti che piovevano sulla regione. Ora, che cosa significa questo? Semplice significa che tanto la bioenergia quanto l'energia naturale hanno nei fatti una radice comune. A tal punto che un Pokémon come Rayquaza, dotato di bioenergia solo per il fatto di essere vivo, è in grado di interagire con la forza naturale, che in lui scaturisce lo stesso effetto che l'esposizione alla bioenergia avrebbe prodotto. Quando due energie producono lo stesso effetto, non parliamo più di diversi tipi di energia, ma semmai parliamo di diverse fonti che producono un'unica energia. Dunque ricapitoliamo. La bioenergia dei Pokémon e l'energia naturale prodotta dai meteoriti che piovono a Doen sono analoghe, e dunque rientrano entrambe all'interno dell'energia infinita, di cui la bioenergia che precedentemente abbiamo posto in relazione ed identità con l'energia infinita è semplicemente una parte. Ma a questo punto, se l'energia infinita pervade tanto i Pokémon, e dunque tanto la vita, quanto i meteoriti, e dunque tanto l'inorganico, e dunque la morte, stiamo parlando di un'energia che pervade l'intero mondo. I Pokémon stessi si evolvono rilasciando energia attorno a sé, ma alcuni di essi possono farlo solo a contatto con oggetti e luoghi naturali. Penso banalmente a Glaceon e Liffeon, due stadi evolutivi che Eevee può raggiungere solo a contatto con una specifica roccia. E ancora, non bastasse tutto ciò, l'energia stessa di Xerneas, che abbiamo detto incarnare da un certo punto di vista l'energia infinita, non trae origine solo dai Pokémon, ma dalla natura. La mossa Geocontrollo vuol dire letteralmente Controllo della Terra. E il Pokémon, grazie a questa mossa, aumenta la propria potenza, sottraendo dalla Terra le proprie energie. Tutte queste affermazioni credo che siano abbastanza solide da farci concludere che l'intero mondo Pokémon è permeato da una forma di energia che abbiamo battezzato Energia Infinita. Bene, ora che abbiamo chiarito che cosa sia l'energia infinita e come la Mega Evoluzione sia da essa generata, è arrivato il momento di tracciare la differenza che intercorre tra quest'ultima e l'energia Dynamax. E dunque, parallelamente, quella tra Mega Evoluzioni e Pokémon Dynamax. Ad inizio video ho citato polemicamente la teoria secondo la quale tanto l'energia infinita quanto l'energia Dynamax siano declinazioni di un'unica energia, possedendo di fatto la stessa natura generale e presentando semplicemente delle declinazioni differenti. Una natura generale ad entrambe, ed è questo secondo me l'errore fondamentale, che viene identificata come una natura intrinsecamente negativa, che spinge le stesse creature oltre i propri limiti possibili, provocando il loro dolore, sofferenze, patimenti. Tutto questo non regge perché è falso. Non è vero che i Pokémon Mega Evoluti soffrono, o almeno non è vero per tutti. Pinsir è felice della propria Mega Evoluzione. E questo significa che se un Pokémon soffre quando è Mega Evoluto, ciò è dovuto a delle contingenze totalmente particolari. L'errore che si fa è trasformare un effetto collaterale nell'effetto voluto. E un discorso analogo può essere fatto per i Pokémon Dynamax, partendo dalle descrizioni delle poche Gigamax che ad oggi abbiamo. C'è letteralmente un caso nel quale il Pokémon Gigamaxato soffre a tal punto da perdere il proprio controllo, ed è quello di Doxtricity Gigamax. Per il resto il Pokédex è pieno zeppo di descrizioni che decantano come i Pokémon Giganti abbiano salvato gli esseri umani, e di come anzi l'ostilità e la malvagità faccia più parte di questi ultimi che delle Gigamax. Ma questo è solo uno dei casi nei quali i Pokémon Gigamax si dimostrano non malvaggi in sé per sé. Dreadnought salva Galar dalle inondazioni, Cossal salva la vita degli esseri umani fungendo da fornace durante i periodi di gelo, e Machamp, grazie alla sua forza, ha avuto la benevolenza di prendere una nave andata a largo e di riportarla al suo porto. Addirittura il Pokédex ci parla di come sul dorso di Lapras possano navigare fino a 5.000 persone, suggerendoci che ciò deve essere avvenuto. Un Pokémon Gigamax che si mette a disposizione degli esseri umani per delle traversate oceaniche? E' questa la malvagità intrinseca della Dynamax? La verità è che nessuna delle due energie è di per sé nociva, ma entrambi agiscono in maniera differente sul Pokémon e con effetti dissimili. Ora però, quali sono questi effetti? Dei Pokémon Dynamax abbiamo già parlato. Essi appaiono ben più grandi del normale in virtù di una distorsione spazio-temporale causata dall'energia Dynamax. E ciò avviene quando l'energia Dynamax nel sottosuolo, che non interagisce di per sé con i Pokémon, viene convogliata al loro interno mediante desiomateria. Un processo che testimonia innanzitutto l'incompatibilità tra Pokémon e Dynamax, che si dà solo nel momento in cui vi è un oggetto esterno a catalizzarlo. E questo è già un punto di distacco rispetto all'energia infinita, che abbiamo detto invece permeare il mondo Pokémon e soprattutto i Pokémon, che di questa energia fanno sempre uso per evolversi, per aumentare di potenza, verosimilmente anche per utilizzare le mosse. Un'energia che il Pokémon possiede proprio perché è Pokémon. Ma la differenza fondamentale tra le due energie credo stia nel tipo di cambiamento che esse producono. Il Dynamax, lo abbiamo detto, agisce in primis sullo spazio-tempo e dunque sulla struttura della realtà, ossia la materia. Come agisce invece la Mega Evoluzione? Torniamo alla nostra energia naturale, quella dei meteoriti di Oen. La Mega Evoluzione di Rayquaza è scaturita dall'ingerimento da parte del Pokémon della loro energia. Ma questo non è l'unico fenomeno di cui quest'ultima è responsabile. Sul suolo di Oen è infatti proprio l'impatto delle meteore che si scagliano sulla regione, che scatena l'energia naturale, che ha permesso a Groudon e Chiodre di risvegliare la propria forma primordiale. E di farlo mediante quello che ad oggi noi conosciamo come Archeorisveglio. Una meccanica che è simile alle Mega Evoluzioni per ogni suo aspetto. Viene modificata la fisionomia dei Pokémon, l'aumento di forza è equivalente in entrambi i casi e soprattutto è scaturita da quella che abbiamo detto essere la stessa energia che produce la Mega Evoluzione. Ora parliamo dell'Archeorisveglio. Che cosa significa scientificamente tornare ad una forma originaria? L'espressione forma originaria presuppone una sorta di evoluzionismo darwiniano, per il quale il Pokémon cambia nel tempo al di là di quella che è l'evoluzione metamorfica tipica dei Pokémon. Un concetto, quello dell'evoluzionismo in Pokémon, che abbiamo da sempre imparato a conoscere e che si è fatto largo nella lore di questo mondo, soprattutto dalla settima generazione in poi con le forme regionali. Detto questo, la domanda a questo punto diventa un'altra. Che cosa significherebbe, in ipotesi, percorrere a ritroso il percorso evolutivo di una specie? Significherebbe, nei fatti, recuperare quei geni che a suo tempo produssero quella specie. Insomma, risvegliarli. Forse come a risvegliarsi sono i geni di Aerodactyl, che lo riconducono alla sua vera forma grazie alla Mega Evoluzione? O forse come quelli di Mega Anfaros, che gli riconsegnano la lana perduta e il tipo Drago Sopito. Il tema del risveglio nelle Mega Evoluzioni è centrale molto più della sofferenza che esse causerebbero. Sia Lopanni che Lucario risvegliano il proprio istinto combattivo Sopito. E ci sarebbero molti altri casi da sviscerare in tal senso che però mi riservo per un video futuro. Ma al di là di ciò, le affinità che le Mega Evoluzioni hanno sempre avuto con l'archio risveglio e il fatto che proprio il tema del risveglio sia centrale nelle Mega Evoluzioni ci porta alla conclusione che l'azione della Mega Evoluzione è riconducibile alla manipolazione genetica che deve stare alla base anche dell'archio risveglio. Ma questo vuol dire, per l'appunto, agire sul Pokémon e sulla sua genetica. Vuol dire restare nella logica dell'ordine, manipolando l'evoluzionismo forse, andando a ritroso nella storia, ma non modificandone le fondamenta. E del resto la Mega Evoluzione, lo abbiamo detto, sfrutta un'energia che è alla base del mondo Pokémon, ossia l'energia infinita. Il Dynamax, al contrario, mina lo spazio-tempo. Non riattiva i geni latenti dei Pokémon, tanto che all'interno delle descrizioni delle Gigamax che possediamo il tema del risveglio è assente. Le modifiche che i Pokémon subiscono non vengono attribuite alla loro genetica o ad alcune loro caratteristiche sopite, ma alla semplice energia Dynamax che agisce al di là della genetica e soprattutto al di là della materia. Senza dover chiamare in causa le nostre teorie riguardo al caos e all'ordine, e dunque riguardo Eternatus e Arceus, credo di poter affermare con certezza che la Mega Evoluzione e i Pokémon Dynamax, o se preferite l'energia infinita e l'energia Dynamax, siano cose profondamente diverse. E attenzione, non facciamoci ingannare dalla provenienza simile tra le due. Vero è che l'energia naturale proviene dai meteoriti come l'energia Dynamax proviene dal meteorite che porta Eternatus sulla Terra, ma le meteore che colpiscono E.N. provengono dallo spazio. E lo sappiamo non solo perché nell'episodio Delta, nello spazio, ci andiamo letteralmente per fermare un asteroide, ma anche perché Rayquaza, che si ciba di quelle meteore, si trova nello zono, che è collocato a 35 km di altitudine. Il meteorite con il quale è giunto Eternatus, invece, proviene evidentemente dal vortice che ospita Eternamax, ed è decisamente più vicino a noi rispetto all'ozono, tanto che noi lo vediamo, quando caratteristica fondamentale nella storia di Rayquaza è proprio quella di non poter essere visto perché è collocato in un luogo troppo alto da raggiungere con la vista. Insomma, due origini fondamentalmente diverse, con due effetti totalmente dissimili, per due energie che più che porsi in una continuità sembrano disporsi su quella dicotomia che su questo canale da più di un anno stiamo tracciando. La dicotomia tra l'ordine e il disordine, e tra il multiverso e il vortice di caos. Il primo, intriso di energia infinita tanto in ciò che è vivo quanto in ciò che è morto, tanto nei Pokémon quanto nei meteoriti, tanto in Xerneas quanto in Iveltal, un'energia che rende possibile quell'ecosistema di cui garante Zygarde, che interverrebbe proprio qualora l'ordine fosse minacciato. Il secondo, il vortice di caos, irradiato di energia Dynamax, che prima ancora che minare all'ecosistema, mina l'essenza stessa della realtà, mina alla struttura del multiverso, alla materia, allo spazio-tempo e di conseguenza mina ad Archeus. Un'energia che proviene da un altrove non ancora definito e che è incarnata da un Pokémon terribilmente potente il cui nome, guarda caso, va in netto contrasto con quello della creatura originaria. Eternatus e Archeus, eternità e Arche, l'eternità contro il principio. Di fronte ad una tale differenza, trovo che accomunare l'energia infinita, l'energia Dynamax, sia quantomeno impossibile. Bene, signori, io spero che questo ennesimo viaggio nella lore di Pokémon vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!